Scatta domani l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza del latte di tutti i prodotti lattiero caseari venduti in Italia. Da domani dunque i consumatori potranno finalmente sapere da dove proviene il latte che acquistano al banco frigo, ma anche quello utilizzato per fare il burro, lo yogurt, la mozzarella o il formaggio. Per il consumatore è una vittoria importante nel momento dell'acquisto, avrà la possibilità finalmente di poter acquistare con trasparenza un prodotto che potrà vantare l'origine della materia prima. Ma esattamente cosa cambia rispetto a quanto è accaduto fino ad oggi? Fino ad oggi questo non succedeva perché il prodotto bastava che fosse lavorato in Italia per poter essere considerato italiano. Da domani invece il prodotto sarà italiano se l'origine del latte, quindi della mongitura del latte, sarà fatto in Italia. Per cui una bella vittoria per il consumatore che potrà acquistare con trasparenza, soprattutto con serietà il prodotto che intende portare a tavola. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, di bufala e di altra origine animale e secondo la Coldiretti permetterà di difendere allevatori e consumatori dal falso made in Italy. Attualmente infatti Coldiretti stima che tre bottiglie di latte a lunga conservazione su quattro contengano latte di provenienza estera. Fino ad ora però era impossibile riconoscerlo, da domani il consumatore invece potrà scegliere. Quello che mangiamo è assolutamente di primaria importanza, per cui prendetevi un minutino in più, però leggete bene quello che c'è scritto nell'etichetta e farete un acquisto sicuro.